salve a tutti e bentrovati in un nuovo video oggi video un po particolare di analisi per quanto riguarda la questione bug il clown ne abbiamo già parlato in maniera un po più generica nel classico video commento il capitolo 1053 che è uscito venerdì scorso siccome questa settimana non uscirà il capitolo proviamo a fare una riflessione un pochino più approfondita sul personaggio di buggy e sul perché il governo ha deciso tra virgolette di promuoverlo di nominarlo come imperatore allora la prima cosa dalla quale bisogna partire secondo me è perché gli imperatori esistono ancora allora dopo il salto temporale dopo che c'è stata tutta la rivoluzione all'interno del del governo soprattutto della marina con quindi a kaino che ha preso il posto di sengoku eccetera noi sappiamo che alcune cose sono cambiate innanzitutto ci sono stati dei nuovi ammiragli appunto fugitora toroverde la base della marina è passata appunto il quartier generale all'ingresso del nuovo mondo quindi è stato spostato anche la vecchia marine ford tra virgolette non esiste più quindi ci sono stati un po di cambiamenti non da ultimo non da ultimo l'abolizione della flotta dei sette la flotta dei sette è stata abolita anche grazie alle nuove innovazioni tecnologiche del governo e della marina come l'arma di vegapunk e quindi consente di avere un controllo maggiore rispetto ai flottari che vi ricordo appunto i flottari la flotta dei sette è stata istituita a suo tempo perché insieme alla marina serviva per bilanciare la forza dei quattro imperatori bene ora la flotta dei sette non esiste più con la caduta di big man e kai do io personalmente mi aspettavo da un lato che anche il sistema degli imperatori potesse crollare quindi siccome noi abbiamo avuto un periodo dove barba bianca appunto è caduto quindi gli imperatori erano rimasti in tre e prima che venisse nominato barba nera è passato un bel po di tempo e all'epoca c'era comunque ancora il sistema della flotta dei sette attive attiva ora come ora cadono ben due su quattro quindi kai do e big man quindi con soli due imperatori rimasti diciamo in vetta era anche possibile che il sistema generale appunto dei quattro imperatori crollasse proprio perché abbiamo visto che la flotta dei sette è crollata il governo mondiale probabilmente a fine manga crollerà o comunque cambierà facciata quindi mi aspettavo personalmente in un certo senso una sorta di disgregazione proprio del dei vari status quo del mondo di one piece tra cui anche quello di imperatore ecco non ce lo vedevo rufi imperatore invece oda appunto ha voluto continuare con questa strada quindi i quattro imperatori sono rimasti e i due nuovi imperatori sono appunto rufi che nell'immagine del capitolo 1053 appunto è diciamo nella versione sangonica e poi baghi il clown quindi rufi e baghi che sostituiscono kai do e big man ora perché il governo ha deciso di mantenere inalterato lo status di imperatore ecco questa secondo me è la prima domanda che ci dobbiamo porre probabilmente a livello mondiale stanno accadendo talmente tante cose al di là di quello che abbiamo visto a uano che al governo in un certo qual modo conviene mantenere appunto lo status quo di alcune situazioni quindi anche quella degli imperatori e questa secondo me è una cosa tutt'altro che da sottovalutare per quanto riguarda la figura di baghi come abbiamo visto appunto nel corso della storia lui ha un percorso di vita e di carriera diciamo così piratesca che per certi versi è parallela a quella appunto di rufi e anche di blackbird in un certo senso di barba nera cioè baghi comincia da zero dall'essere un pirata diciamo semi sconosciuto del mare orientale e la sua scalata prosegue quindi fino a diventare flottaro flotta dei sette e poi ora imperatore se le cose diciamo proseguono come sono iniziate probabilmente la nomina di imperatore è stata causata da una serie di coincidenze fortuite di malintesi questo perché baghi è un personaggio che da sempre è legato al tema della fortuna è legato alla fortuna appunto quando in senso negativo sta per giustiziare rufi quindi è arrivato a un tanto così dal dal giustiziare rufi ma poi il destino appunto ha voluto che rufi si salvasse e quindi con un fulmine viene appunto a rogue town se non sbaglio a rogue town viene praticamente incenerito quindi la fortuna in un certo senso ha sempre accompagnato la vita di baghi da quando ingeri il frutto sulla nave appunto di gold roger quindi è un personaggio un po particolare è probabile che se la sua evoluzione diciamo è costante con quella che ha avuto con l'ingresso nella flotta dei sette il suo ingresso tra gli imperatori sia stato causato probabilmente anche da cause fortuite l'ultima volta che vediamo baghi infatti è nella sua isola nell'isola di fanfaron insieme praticamente alla sua flotta qui parliamo già di un baghi che è nella flotta dei sette sta lì e praticamente riceve la marina che ha emesso un mandato di cattura nei suoi riguardi perché la flotta dei sette è stata abolita allo stesso modo in cui la marina è sulle tracce di mioc sulle tracce di bohancock sulle tracce di edward weevall e in generale dei membri della flotta dei sette appunto che non esiste più la prima cosa che viene in mente è quindi il pensiero che baghi possa essere stato l'unico magari l'unico flottaro in grado di scappare alle griffie della marina questo da un lato vorrebbe dire che ad esempio personaggi come bohancock come mioc siano stati arrestati o comunque siano stati catturati dalla dalla marina appunto il che fa un pochino strano soprattutto per quanto riguarda mioc che è un personaggio molto forte e quindi risulta difficile immaginarlo imprigionato dai marine allo stesso modo però se baghi è diventato imperatore sicuramente è riuscito a scappare questo fatto di riuscire diciamo a eludere la sorveglianza della marina e aggabbare tra virgolette anche l'arma definitiva di vega punk potrebbe essere stata la causa della sua diciamo nomina a flottaro ci sono poi delle teorie che vorrebbero appunto siccome la potenza di baghi si basa molto anche sulla sua flotta vorrebbero far intendere che appunto gli altri membri della flotta dei sette si siano uniti a baghi e siano entrati nella sua ciurma tra virgolette però anche qui sinceramente a me sembra difficile immaginare che personaggi come mioc o come bohancock possano essersi uniti a baghi quindi se questo non è avvenuto allora cosa è successo di tanto eclatante è possibile che solamente il fatto di essere fuggito dalla marina faccia di lui un nuovo imperatore ecco personalmente anche questo non mi convince molto deve essere necessariamente successo qualcosa qualcosa di importante anche perché abbiamo visto che kaido e big man sono caduti però di quelli che li hanno sconfitti solo rufi è diventato imperatore e quindi bisogna capire anche un po qual è il criterio di scelta ecco c'è un'altra teoria che gira ultimamente e che vorrebbe una versione un pochino più complottista della situazione quindi un baghi nominato diciamo così imperatore ad hoc cioè come un suggerimento magari proprio di shanks il rosso che era suo compagno appunto in gioventù e che abbiamo visto avere un rapporto privilegiato con i gorosei quindi shanks potrebbe essere andato dai gorosei e potrebbe aver suggerito baghi come nuovo imperatore proprio al fine di mantenere lo status quo diciamo almeno per quanto riguarda la situazione dei quattro imperatori questa teoria in un certo senso è affascinante vi ricordo che nel volume 25 nella cover si vedono appunto barba nera shanks baghi e rufi tutti insieme e non so se oda avesse veramente già all'epoca pensato a questi quattro come nuovi imperatori ma sarebbe geniale se fosse così e questa questa teoria comunque porrebbe l'accento sempre sulla figura di shanks che ad ora diciamo è l'imperatore che sta un pochino al centro di tutto perché è il mentore di rufi che è il nuovo imperatore è compagno dell'altro ex imperatore cioè baghi e da un conto in sospeso con l'altro imperatore ancora cioè barba nera quindi tutti gli imperatori tutti i nuovi imperatori ora giocano intorno a shanks che ironia della sorte era il vecchio imperatore più giovane cioè il rookie e adesso è quello che è lì da più tempo per quanto riguarda baghi però la situazione appunto è abbastanza nebulosa ancora ecco tutte queste teorie sono abbastanza fattibili diciamo che non hanno grossi punti deboli però personalmente a me continuano a non convincere al cento per cento io credo che debba essere successo un qualcosa di ben definito perché per diventare imperatore non basta essere bravi a scappare o comunque aver diciamo fortuna ci deve essere anche qualcosa di eclatante quindi che baghi ha fatto magari ha scoperto ha trovato ha realizzato deve essere successo per forza qualcosa fatemi sapere un pochettino voi la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate se può esserci dietro shanks o meno se è una scelta appunto dettata dal fatto che la fama di baghi inconsapevolmente sta continuando a crescere o se appunto un ottimo lavoro di marketing che baghi stesso sta facendo su di lui quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti io come sempre vi invito a lasciare un like un pollice in su per supportare la mia attività su youtube a iscrivervi al canale se non siete iscritti e in descrizione vi lascio i link dei miei profili social tra cui il canale telegram dove possiamo discutere insieme di one piece un saluto a tutti da tnbt e ci vediamo con i prossimi video ciao